Rolex GMT Master 2 Coke, l'inconfondibile icona degli opposti. Questo straordinario orologio da polso non è solo un semplice accessorio, ma una vera e propria dichiarazione di stile e design. Il suo nome, Coke, è un omaggio evidente alla Coca-Cola, e questa ispirazione si riflette nella sua audace combinazione di colori rosso e nero. Il quadrante nero del Rolex GMT Master 2 Coke crea una tela di fondo perfetta per il rosso vibrante che caratterizza la lunetta e la quarta lancetta. Questa estetica unica ha fatto sì che il GMT Master 2 Coke sia uno dei modelli più riconoscibili e apprezzati nel mondo dell'orologeria di lusso. Oltre all'aspetto accattivante, questo orologio è dotato di funzionalità avanzate che lo rendono un compagno ideale per i viaggiatori internazionali. La funzione GMT, una delle caratteristiche distintive di questo modello, consente di tenere traccia di due fusi orari contemporaneamente. Questo è particolarmente utile per chi attraversa continenti e ha bisogno di sapere l'ora in diversi luoghi del mondo. La ghiera girevole bidirezionale facilita l'impostazione del secondo fuso orario, mentre la quarta lancetta di colore rosso fornisce una chiara indicazione delle ore aggiuntive. Un aspetto notevole del GMT Master 2 Coke di Rolex è la sua affinità per essere indossato da una vasta gamma di personaggi famosi e celebrità. Questa versatilità testimonia la capacità dell'orologio di attraversare diversi settori e di adattarsi a vari stili personali. Indossare questo orologio significa abbracciare una tradizione di design e prestigio, che risuona con un'icona globale. Che tu sia un collezionista di orologi o un appassionato di design, il GMT Master 2 Coke rappresenta una scelta di classe che non passa inosservata. La sua storia, estetica e funzionalità lo rendono un pezzo straordinario dell'orologeria di lusso, in grado di ispirare e affascinare in modo duraturo.